Bene, buonasera a tutti i colleghi collegati, bruttissima parola per descrivere il fatto che siamo online, siamo online con gli amici di Avatrade a partire dal loro capo supremo Daniele Ponzinibi che saluto e che ci ha già salutato off the records poco prima di iniziare questo collegamento, oggi andiamo avanti con il programma estivo di didattica sugli indicatori che mettiamo a disposizione, che io metto a disposizione per tutti i colleghi e i clienti vecchi e non, sui nuovi, chiaramente ci sono le promozioni di cui parleremo dopo, di Avatrade oggi parliamo dell'indicatore di sentiment a cui cedo non la parola ma l'immagine del grafico sperando che tutti voi la possiate vedere bene, Eurodollaro H1 con sentiment collegato entro subito nel, come si può dire, nel vivo del discorso senza tanti preamboli, i mercati cosa fanno, cosa non fanno, scenderanno, non scenderanno, le bolse sono così un po' strane le valute invece hanno una maggiore, come di norma, resilienza ma soprattutto direzionalità ho voluto usare proprio questo grafico dell'Eurodollaro 1,17 non ritengo che sia necessario fare altri commenti il motivo per cui l'Euro è molto forte è probabilmente più un mix della debolezza del dollaro per i motivi, prese di profitto, lockdown, coronavirus, previsioni di disoccupazione non tanto in calo, di difficoltà anche delle aziende americane adesso che sono un po' dentro i lockdown a continuare a performare, a generare occupazione, a generare utili l'attesa per molte trimestrali questa settimana arrivano robe pesantissime e poi anche il fatto dell'incertezza per le elezioni presidenziali in Europa invece recovery, mess, sembrano aver detto delle cose importanti soprattutto sul fatto che la Germania e i paesi frugali hanno ovunque registrato una vittoria ma al di là di questo recovery e tutto il resto, la riunione dei leader europei dà un po' di stabilizzazione e quindi ci sono flussi in uscita dall'America che entrano in Europa e di conseguenza le bolse europee chiaramente seguono poi le impostazioni di quelle americane ma vivono anche un pochettino di vita propria e secondariamente non si può negare che per quanto riguarda l'atteggiamento dei mercati azionari c'è comunque un flusso di buona liquidità che per il momento arriva nel nostro continente ed è chiaro quindi che per quanto riguarda il nostro cambio tutto ciò ne ha un riflesso long molto molto positivo parlando dell'indicatore di sentiment cerchiamo un po' di ragionare su questo indicatore che è questo robot che vedete qui sotto per chi ancora non lo conosce strutturato con due linee che si muovono attorno barra al di sotto o al di sopra delle linee dello zero il sentiment è stato per quanto mi riguarda già da diversi anni la prima versione ho cominciato a crearla e a utilizzarla oltre che a commercializzarla a fine 2011 un passaggio un inizio di passaggio per quanto mi riguarda dal trading discrezionale al trading invece assistito trading assistito non significa trading automatico significa sempre trading discrezionale utilizzando una macchina che cosa fa? ti aiuta a vedere delle cose e a prendere delle decisioni tutte le macchine che io utilizzo quindi il sentiment, la dashboard nelle sue due versioni la full e light e il buy sell obbediscono però a una mia esigenza particolare che è quella di aver provato e io ritengo immodestamente di esserci abbastanza riuscito a tradurre le mie idee in strumenti matematici che di conseguenza formulano dei loro segnali operativi dei loro pareri sul mercato direttamente sul grafico a che cosa serve questo? serve a mio modo di vedere ed è stato per quello che io ho voluto anche accelerare questo mio passaggio personale serve a prendere decisioni che siano in coerenza con le regole che ognuno di noi dovrebbe avere ben stampate in testa il problema, ammesso che questo sia un problema anziché un'opportunità è che le regole sono fatte per essere trasgredite sotto certi aspetti e soprattutto sono fatte anche per essere un po' dimenticate o essere personalizzate dallo stato d'animo e dalle emozioni del momento così invece non deve essere perché invece noi dobbiamo fare in modo di abbandonare il meno possibile il territorio di leggi interne che abbiamo per quanto riguarda il nostro trading e quindi questo passaggio graduale io l'ho fatto con una decisione anche di carattere personale so perfettamente che la discrezionalità ha un forte componente egotico e quindi accontenta molto il sapientino che è in ognuno di noi ma ho voluto cercare di ricordarmi sempre di essere sapientino perché il passaggio e il confine fra l'essere figo e sbagliare sul mercato è come voi ben sapete e questo è per tutti molto molto labile perché? perché noi già non sempre riusciamo a essere ben determinati e ben fissi ma il mercato per sua definizione per sua direi natura non è statico perché riflette tutto quello che sono i mutamenti sociali impercettibili forse anche nel quotidiano ma che vi sono i mutamenti economici le aspettative la psicologia della massa che sono tutte cose che a volte hanno un ingresso brutale sui mercati altre volte hanno invece una come si può dire la capacità di modificare i prezzi molto più lieve ma non per questo meno importante e non assolutamente da trascurare questo chiaramente necessita di avere un atteggiamento mentale che non deve rifiutare il cambiamento ma deve vedere nel cambiamento e nell'incertezza la capacità la possibilità ma io la chiamerei proprio l'opportunità di per ognuno di noi come trader salire uno scalino cioè fare uno step evolutivo ed è per questo che a un certo punto ho sentito che non mi bastava più lo trovavo estremamente carente lavorare con indicatori standard quali ad esempio per tanti anni è stato il MACD che ho utilizzato con grande profitto che mi è piaciuto molto e che tuttora mi piace molto e indicatori simili quali possono essere il come si può dire il commodity channel index piuttosto che altre cose però a un certo punto ho detto se ho delle regole se ho dei desideri li posso codificare qual è il desiderio che ho voluto codificare? quello di capire chi mi trovo dall'altra parte del book chiamiamolo book anche se l'ICFD è soltanto un datore di prezzo quando opero perché io so che opero con l'atteggiamento del piccolo trader personalmente soprattutto nell'intraday sono una persona che cerca di fare tanti piccoli copie e incolle e tante piccole cose buone a volte si sbaglia a volte si riesce ma insomma dopo tanti anni siamo ancora qua vuol dire che le cose buone un po' di continuità l'hanno avuto ma l'hanno avuto è perché ho sempre voluto maledettamente studiare chi poteva darmi noia e chi è che di default proprio di professione è lì per dare noia ai trader quello che sta dall'altra parte dove quando tu sei long deve certificare che è long anche lui e non sto parlando di persone che fanno parte della massa dei risparmiatori degli investitori retail sto parlando di persone che chiaramente forniscono la liquidità al mercato perché sono investitori professionisti e istituzionali anche se apro parentesi la liquidità al mercato è tanta e tanta la forniamo molta noi come piccole piccole ma numerosissime mani fra virgolette deboli anzi in realtà per tanti aspetti siamo invece le mani forti proprio perché i nostri movimenti ahimè spesso sbagliati sono quelli che spingono poi prezzi a determinate direzioni che tante volte continuano ad essere tali come nel caso di euro-dollaro perché si autoalimentano di tutta una serie di errori che nel caso dell'euro nel rapporto fra euro-dollaro sono corretti errori short sono corretti da operazioni che a quel punto devono chiudere il ribasso con degli acquisti e gli acquisti autoalimentano il trend questo grafico dell'euro-dollaro io parto sempre da un discorso grafico perché è da lì che è nato poi il lapidary sentiment è molto chiaro e facciamo soltanto stringendo un po' il grafico per comodità di lavoro una breve analisi qui siamo a 1,08 livello delicatissimo sono i periodi di in realtà poi non è che siamo tanto lontani sono periodi di maggio in due mesi sono cambiate tante cose proviamo a verificare dove vi erano in quel periodo supporti e resistenze non facilissimo da tradare ma abbastanza facile da leggere questo grafico qui c'è un doppio minimo e qua un po' più distanziato vi è un doppio massimo dopodiché il mercato ha cercato di trovare un suo punto di equilibrio e se questo punto di equilibrio dentro questo box stava abbiamo provato a farlo in modo artigianale al 50% a un certo punto il mercato d'impulso ha superato la metà dei prezzi e quindi è andato a lavorare sulla parte alta l'ha poi consolidata attendendo a metà del guado un ritorno dei prezzi certificato dalla tenuta della media mobile a 200 periodi orari siamo tornati quindi come quotazioni a provare a rompere questo massimo e da lì siamo partiti nel frattempo dentro questa chiamiamola congestione giusto per comodità di definizione chiamiamola lateralità questa zona dove non si va sotto i minimi ma non si va sotto i massimi si balla era accaduto un fenomeno molto interessante che andiamo a descrivere qua qua esatto alle ore sulla candela orare delle ore 14 del 18 maggio poco meno di due mesi fa euro va a superare quota 1,09 e la supera perché durante questa matrioska contenuta nella figura quindi quest'area di rimbalzo più stretto questa che invece possiamo già più definire una zona congestiva sulla quale per aiutarmi a capire meglio traccio una trendline vi è una fortissima tendenza di acquisto sulle debolezze di accumulazione anche in debolezza da parte di questa linea blu che è la linea delle operazioni ma del sentiment e per sentiment intendo le intenzioni operative da parte della mano primaria che va a lavorare su questo secondo minimo su cui non c'è divergenza tanto infatti che poi il mercato scaricherà per una terza volta in vendita con una posizione decisamente contrapposta e ben lontana dalla linea dello zero così come posizione decisamente contrapposta e ben lontana dalla linea dello zero è anche quella rossa di acquisto e sarebbe anche un acquisto buono in tendenza da parte dei piccoli operatori se non che poi entriamo ancora più dentro la specifica della figura vi è un doppio massimo venduto il mercato scende e su questa vendita tutto questo lavoro qua è tutta una operatività in acquisto sia sulla forza che sulla debolezza da parte della mano primaria la quale ha deciso che il minimo di 1,08 gli stava bene e tutto quindi il lavoro 1,08 1,09 che è durato dal 12 maggio fino al 18 maggio è stato tutto stiamo guardando un grafico orario è stato tutto comprato a danno di chi? chi è che ha finanziato con le sue vendite con le sue operazioni di segno opposto chi stava comprando e chi ha fatto bene a comprare a giudicare da quello che è successo dopo la operatività dei piccoli investitori l'indicazione che ci dà il grafico che spiega quindi anche la logica di funzionamento la mentalità con cui questo indicatore fornisce determinati tipi di segnalazioni è molto molto chiara il mercato rompe questo livello lo ritesterà successivamente ma la linea dello zero che sancisce questo giorno 18 maggio tende l'oraria dalle 14 alle 15 il superamento di 1.09 che viene poi ritestato qua sotto non crea però un ritorno dell'indicatore sullo stesso livello della linea dello zero ovvero breakout di 1.09 si va a 1.10 da 1.10 si ritorna a 1.09 e anche qualcosa sotto ma l'indicatore non ritorna dentro la linea dello zero da cui era partito a certificare che comunque anche questo brusco ritracciamento in realtà non ha cambiato l'idea di stare long da parte di chi è entrato long a 1.09 a questo punto stabilizzato con le prese di profitto degli operatori di breve questa fase ma il mercato cosa ha fatto? è partito via e quindi è partito via con forti acquisti finanziati dalle vendite che erano già presenti da parte dei piccoli operatori i quali cosa hanno dovuto fare trovatisi in questa condizione? Hanno fatto quello che normalmente non sarebbe da fare e che dobbiamo cercare di far capitare il meno possibile ovvero hanno continuato a mediare a ribasso mentre i prezzi salivano nella speranza andata vana che a un certo punto questa salita avesse poco da esprimere e quindi poi i prezzi tornassero a consentire di chiudere almeno a pari i ribassi aperti la brutalità della rottura e l'abbandono anche di questa zona qua che come voi dovreste ormai avere diciamo abbastanza confidenza sapete che è una cosa su cui io lavoro spesso cioè la moltiplicazione delle zone di livelli di prezzi ha portato il cambio a raggiungere il livello di 1.12.50 quindi 1.10 1.12.50 arrotondiamo circa 250 pips su cui poi vedete che è stato un livello molto testato molto rotto molto lavorato quando un livello viene rotto testato rirotto con caccia agli stop o comunque con sostegno di prezzi subito dopo ritestato rimassimato eccetera eccetera significa che comunque quel livello è un livello che il mercato vede sente e lavora e di conseguenza a che cosa abbiamo poi assistito a una derivazione in flag di consolidamento ma questo è un consolidamento rialzista e da che cosa ve ne accorgete che se io vado a prendere questa linea che ho tirato per cercare di capire l'andamento di questa flag parliamo di grafico perché gli indicatori vanno sempre visti non come strumento a sé ma a parte e poi vediamo cosa è successo vediamo che il mercato è andato a fare dei minimi abbastanza vicini al minimo definitivo ma tendeva a spostarsi da quest'altra parte e anche la posizione della media mobile a 200 periodi che è stata un po' centrale per un po' di tempo diciamo a metà della figura a un certo punto è andata a posizionarsi in un altro modo è chiaro che nelle fasi laterali qualunque indicatore e il sentiment non è di norma esente può dare buone probabilità di accumulare falsi segnali o di dare comunque delle indicazioni che non sempre poi il mercato nel momento ha voglia di rispettare e quindi a un certo punto su questi alleggerimenti i big vendono e vendono qua in questa zona sul prezzo di utilizziamo le linee orizzontali che fanno molto comodo sul prezzo di 1,12,50 famoso prezzo di prima ma tocca strano a conferma che l'indicatore ti può molto aiutare a trovare anche i livelli i livelli visti in passato e ottenuti magari anche tramite moltiplicazioni i livelli visti in precedenza stranamente ma questo non è strano è il mercato che è fatto così vengono poi spesso lavorati anche giorni settimane mesi dopo battaglia con molto con molta confusione chiaramente è un grafico orario vedessimo un grafico a 5 minuti le opportunità in un modo o nell'altro si sarebbero potute notare più agevolmente il mercato esce esce bene testa si riappoggia e quando esce esce perché in questa zona di congestione prima dell'uscita dalla trendline i big si sono messi di nuovo a comprare e da che lo capisco che il loro acquisto è stato positivo dal fatto che se entro dentro la congestione a sua volta dell'indicatore e traccio una linea so da questa congestione dove la mano primaria può uscire o meno ed è la mano primaria che deve andare a seguire nel lavoro di creazione dei suoi supporti e le sue resistenze la mano secondaria dovrò seguirla quando poi i due atteggiamenti i due sentiment si distaccano e allora lì dovrò cercare di capire quanto la mano secondaria cioè noi andiamo a contribuire alla salita dei prezzi finanziando piuttosto che no contrastando piuttosto che no le operatività di base il mercato prende parte via e pur facendo anche un ritorno qua sotto sul luogo del breakout e anzi anche andando sia fra il 8 e il 7 di luglio sia fra il 13 e fra il 10 e il 9 luglio a rompere il livello di uscita non rompe livello di uscita non torna più indietro il sentiment che ci offre quindi un segnale non ci offre un pasto gratuito perché questo nessun indicatore serio te lo può dare ci offre un segnale che le probabilità stanno andando a crescere a favore di una forza di euro è chiaro che quando si fa trading bisogna anche essere informati su notizie e le borse europee hanno relato tanto in quei giorni che avevano certificato l'accordo dei principali paesi europei all'interno della faccenda riunione per il per il MES e per il recovery fund e quindi un accordo che aveva fatto relare le borse in un momento in cui le borse stavano in America cominciando a prendere profitto sul Nasdaq non poteva che far pensare se A è uguale a B se B è uguale a C c'è un rapporto probabilmente di continuità di coerenza di congruità anche fra A e C stesso dice una nota formula e quindi non poteva far pensare che uscite il denaro dall'America a devolizia di dollaro forza di euro l'euro viene visto come un luogo in cui si è trovato un minimo di stabilità come area è chiaro che il cambio ne ha risentito in positivo ma ne ha risentito in positivo soprattutto in questi ultimi due giorni perché questo rally è alimentato prendiamo la linea che abbiamo creato prima scusate ho commesso un errore ho premuto il tasto sbagliato questa tendenza guardate minimo minimo massimo come anche il sentiment che stiamo trattando alla stregua di un vero e proprio grafico lineare dei prezzi ha sentito questa resistenza e questa è ancora una prova non è una giustificazione non ne abbiamo ormai più bisogno che una esigrafica se fatta in modo semplice può essere molto efficace e può funzionare molto bene nel dare dei riferimenti su dove potrebbero essere o non essere i principali momenti di supporto e di resistenza ma tutto questo è stato alimentato cancello queste due dalla pervicacia con cui noi piccoli operatori siamo andati a finanziare questa discesa minimo massimo minimo massimo sono usciti fuori fra l'altro molto di più gli acquisti dei big dalle vendite degli small qui qualcuno mi dice qua c'è un doppio massimo sì lo si interpreta dicendo attenzione i big sono arrivati in un luogo dal quale già in passato non erano più come intensità di acquisti andati oltre non sono andati oltre però gli small questo significa che chi fosse long di euro sarebbe il caso che si prendesse anche qualche profitto ma attenzione che in termini di trend il trend potrebbe anche magari per poco siamo sempre su candele orarie andare anche a rompere questo massimo perché non ha rotto ancora il minimo comunque non siamo sul minimo assoluto di quest'ultimo periodo sulle vendite sbagliate da parte della mano primaria quindi è chiaro che il sentiment obbedisce cerca quantomeno secondo me anche in modo molto efficace di superare i limiti dei tradizionali indicatori di divergenza e quindi anche di dare delle risposte alle domande che io mi pongo su chi comanda i prezzi la cosiddetta price action e su quella che è la natura del trend ovvero c'è una tendenza li devo andare contro o meno può durare o non può durare chi sta guidando questa tendenza e chi la sta subendo queste sono le tre domande che noi normalmente proprio di base ci facciamo ripeto c'è una tendenza chiara sì no può durare ancora e quindi posso entrare sulla forza o scioltare sulla debolezza oppure no terzo tutto quello che vedo nei miei occhi al di là del fatto che io sia dentro l'operazione oppure ne sia fuori ha una logica è un mercato così irrazionale oppure c'è qualcuno che sta comprando e questo qualcuno gli posso dare una scusate una identificazione chiara queste sono le domande che io mi sono sempre posto perché perché se non riesco a trovare una risposta a queste domande è ovvio che non potrò in ogni caso evitare le perdite le perdite in questo in questo lavoro ma devo cercare di fare il possibile per contenerle ad un livello accettabile e quindi voglio sapere cosa devo fare e questo cosa devo fare è una domanda a cui la risposta arriva dal padroneggiare o dal ricevere dall'indicatore altri quattro tipi di risposte che sono a quel punto di formazione ovvero gli investitori istituzionali stanno comprando sui minimi dei prezzi approfittando della paura della massa che si sta trovando ad alimentare questi minimi comprando sui ribassi può essere opportuno studiare il comportamento dei grandi investitori tracciando comunque una trendline anche sulla linea che identifica il loro medesimo comportamento stanno comprando invece grandi investitori sui rialzi delle quotazioni all'interno di un clima euforico che comunque nasce dalla disperazione dei piccoli oppure i piccoli investitori vendono loro in un momento di rialzo delle quotazioni anche se temporaneo stiamo osservando un grafico tipo tipo qua che stanno cominciando da vendere tipo qua che vendono perché non credono in questo rialzo e quindi ritengono che questa euforia sia un'euforia sbagliata anzi ritengono che questo rialzo sia non un'euforia sbagliata sia un'euforia quando invece è una tendenza oppure le vendite degli operatori small sono vendite che arrivano dal fatto che non credono in questo massimo e che sono poi spaventati sono vendite che derivano ad esempio da cali delle quotazioni dove a un certo punto cioè io ho bisogno di capire queste cose e per capire queste cose le devo codificare perché altrimenti se no io faccio solo dei ragionamenti quindi quello che mi interessa nel caso per esempio di un trend a rialzo come questo se gli operatori stanno alimentando questo rialzo per vendere più in alto o se stanno alimentando questo rialzo perché comunque credono che il rialzo debba non solo essere alimentato ma non sia terminato e quindi se c'è un primo rialzo a cui segue un periodo di riflessione ho bisogno di capire se questo periodo di riflessione prepara nuove vendite o se questo periodo di riflessione è solo una pausa prima che il trend rialzista di base prosegua questo ad esempio mi permette di fare chiarezza fra resistenze autentiche e resistenze invece che possono essere estremamente più fragili e quindi in realtà resistenze che possono essere oltrepassate ho cambiato un attimo il microfono della cuffia ok quindi l'indicatore mi serve per capire delle cose e più durano per esempio le fasi di congestione più io queste fasi di congestione devo essere capace di misurarle per andare poi a prendere dai punti di pullback dei target quello che ha secondo me rovinato l'operatività dei piccoli trend è non aver capito che da questa fase di congestione ne potevamo uscire come potevamo anche uscire dall'altra parte ma in ogni caso era opportuno misurare perché? perché una volta usciti e quando si esce poi si testa e non ci si muove le probabilità che questo trend prenda forza sono molto elevate e infatti vedete che il mercato è arrivato esattamente sull'obiettivo dato dalla moltiplicazione dalla somma della distanza della larghezza di questo canale proiettata al punto di rottura è che il punto di arrivo superava il massimo precedente e quando tu un punto di arrivo lo consegui superando un massimo precedente ti devi aspettare che vi siano dei ritracciamenti prese di profitto di chi fa l'analisi grafica sui livelli e sulle moltiplicazioni ma è buona cosa non confidare molto che il mercato inverta perché quando un mercato ha superato un massimo importante poi qui c'è una configurazione 1,2,3 mercato ha voglia di salire ancora infatti vedete che si sta fermando qua su due volte e mezzo il pallino di mezzo della linea al contrario andiamo a vedere di trovare un trend ribassista prendiamo ad esempio una cosa che sta scendendo bene oggi oggi c'è il petrolio andiamo a vedere light crude che sta cominciando a perdere un po' di colpi ecco vedete per esempio sul light crude abbiamo una situazione di questo tipo comincia a crearsi un triangolo dove raggiunti determinati livelli di prezzo lo ingrandiamo non vi preoccupate il sentiment sta calando questo ci aiuta a capire cosa sta facendo o non sta facendo la mano primaria e quali sono i livelli su cui la mano primaria questo è un grafico a 15 minuti di petrolio diamogli il giusto peso massimo alleggerimento anche brutale volatile ma senza brutalità e volatilità dell'indicatore rottura di 41,20 del massimo precedente sentimenti che parte via prese di profitto non ancora vistose mercati che ripartono via alleggerimento sul doppio massimo questo è quasi un doppio massimo sul secondo massimo sentimenti bassissimo prese di profitto qualcuno mi suggerisce di guardare anche dollaro yen ma non volevo stare a guardare 20.000 grafici ma guardate per esempio questo dollaro yen qua questa è una bella indicazione di perdita di spinta non di spinta in termini di buy sell come potenza di acquisto ce n'è di perdita di intenzioni di stare dietro a tutelare il trend ecco perché questi due indicatori lavorano insieme molto bene a quel punto prendiamo analisi grafica nuovamente rottura della trend line rottura della linea dello zero qua c'è una discesa accumulazione di prezzi mediatura la parte dei big favorita dalle vendite degli small su questi ultimi periodi su dollaro yen è un 15 minuti dollaro yen quindi una roba molto veloce cominciano a comprare a 107,68 finiscono a 106 e 68 grosso modo quindi 107 106 100 pip prezzo medio di carico 107,20 lavoro intraday su questo prezzo di 107,20 poi è chiaro che sbagliano anche i big però questo ci dice le posizioni di quelli che comunque tendono a sbagliare meno e io preferisco seguire quelli che non sono dio ma che sono meglio di me sentiment nella buona sostanza permette di capire chi guida il mercato chi lo subisce permette di intuire le possibili mosse che avrebbe fatto che stava comunque intanto preparando chi guida il mercato da quale prezzo si muove e in quale momento perché se io so il prezzo su cui il mercato ha rotto la linea dello zero del sentiment e se io so che questo prezzo coincide perché lo vedo che la rottura dello zero coincide con la rottura in questo caso di un doppio minimo importante io so sicuramente che potiamo dire possiamo dire tutto quello che vogliamo ci tiro anche un fibonacci ammettendo che questo sia un minimo importante io so che sul 61,8 di fibonacci di queste escursioni massimo minimo c'è un prezzo micidiale io so che 106,68 ma tu guarda quel 106,68 di prima su cui era stata fatta un'operazione di accumulazione su quel minimo importante io so che questo è un livello pazzesco pazzesco e quindi anche in caso che il dollaro abbia voglia rimbalzare sullo yen cosa che non la vedo facilissima perché le borse americane mi sembra che nel momento attuale in cui stiamo parlando non siano proprio gigliatissimamente rialziste non le vedo sinceramente penso che Wall Street ha aperto la poco ma non è che ha aperto proprio con tutta sta stalena sì per carità a Nasdaq che fa più 0,55 rispetto a venerdì ma insomma ci starei prudente questa sarà una resistenza pazzesca abbiamo una conferma come dice Vincenzo micidiale la rottura a questo incrocio e questo mi fanno un commento su YouTube dove ho trasmesso dove sto trasmettendo anche questo nostro incontro e in realtà potrebbe esserci una ipotetica continuazione di rialzo sia perché dollaro è ancora molto debole sia perché dal punto di vista grafico barra eliotiano prendete chiaramente le mie spiegazioni con il beneficio in inventario perché io cerco di semplificare anche concetti abbastanza difficili potremmo essere all'interno di un'onda che può essere di terzo livello e quindi di normale onde di terzo livello prima di farlo smittere ce ne vuole questo ci può aiutare anche a capire le ottiche di rimbalzo del per venduto come tradarle perché ci sono situazioni dove si può pensare guarda come è venduto il dollaro yen eh ma non è mica detto che debba essere comunque sempre una situazione di inversione dipende il trading e poi in realtà è un tramite dipende e quindi sappiamo perfettamente da questo indicatore chi muove il mercato se i prezzi salivano perché i big li spingevano perché erano i piccoli operatori come abbiamo visto nel caso di euro-dollaro oggi parliamo anche un po' più di forex che sicuramente è un argomento che interesserà molti di voi questa è stellina-dollaro cancelliamo un po' di oggetti grafici Daniele tieniti pronto perché fra un po' ti comincio a cedere la parola perfetto grazie Giovanni tenete anche presente che oggi sul sentiment facciamo un primo approccio perché mi garba scusate la toscanità talmente tanto parlare di questi indicatori e comunque hanno tantissime informazioni da dare che ad agosto ci torno con un secondo webinar dedicato ve lo anticipo ve lo anticipo vedete anche stellina-dollaro guarda sparata di stellina-dollaro e stellina-dollaro è un cambio su cui si può fare un'attività intraday molto buona per il rapporto preferenziale fra il suo spread e range applicato stellina-dollaro scusate poi dice l'analisi tecnica non funziona no non funziona no non funziona l'analisi tecnica no 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 non serve a niente sparata di stellina-dollaro incredibile ritracciamento importante dei prezzi non tanto importante dell'indicatore quando i prezzi ritracciano poco e l'indicatore ritraccia di più il ritracciamento maggiore dell'indicatore offre un'opportunità di acquisto quando i prezzi ritracciano invece poco e l'indicatore ritraccia di più l'indicatore ti dà comunque l'opportunità anche di verificare tutta una certa serie di situazioni e di dire ma è il caso di farlo perché ricordatevi l'indicatore dovete sempre metterlo in seconda posizione rispetto ai prezzi non commettete mai l'errore di affidare a macchine sia pur bellissime come queste il destino dei vostri trade il destino dei vostri trade è la coerenza dell'andamento dei prezzi punto danni caro ti cederei un attimo la parola così introduci un po' alcuni argomenti su cui stiamo lavorando e ci avviamo alla fine intanto di questa prima di questa prima parte dei nostri webinar sul sentiment prendi pure la parola ok un saluto a tutti dovreste vedere il mio schermo in questo momento una conferma io lo vedo perfettamente e credo che lo vedano perfettamente anche molto espanso molto grande molto chiaro come il tuo solito tanto che parlavi ho riesumato per dirti un grafico che mi tengo sempre perché io chiaramente tu mi senti la stessa cosa diciamo la vedo io come Daniele Trader quindi mi sono tenuto davanti un grafico dell'euro dollaro mensile e come potete vedere diciamo è un è un trend abbastanza delineato come dicevamo la cosa che chiaramente da Daniele che lavora all'interno di un buon broker come Avatrade è che purtroppo vedendo un attimino i book dei nostri clienti dei fondi anche che lavorano con noi non sono dalla stessa parte del tuo sentiment Giovanni quindi gente in sofferenza sull'euro dollaro come potete immaginare da figure gente magari in sofferenza sul dollaro yen che è speculare poi dal punto di vista operativo chiaramente come broker quello che cerchiamo noi di dare tutti gli strumenti per fare lavorare il cliente proprio perché guadagnando dall'intermediazione abbiamo bisogno di strumenti che che tengono il cliente e tutto che lo facciano guadagnare una cosa che chiaramente visto per come è impostato il webinar e se è partito col Forex ci tenevo a dare a tutti i partecipanti quindi diciamo facciamo un'eccezione ok per questo webinar poi potete contattarmi direttamente alla mia mail di punto ponzinibiavatrade punto com un indicatore uno script molto comodo per capire come si sta come sta andando la giornata valutaria questo script è la classifica forza relativa come vedete io la trascino sul grafico in questo momento e mi dice semplicemente quali sono le valute più forti rispetto a tutte le altre quindi l'euro dalla mezzanotte perché i valori sono calcolati dalla mezzanotte del broker quindi Avatrade è un broker con GMT a Londra proprio perché è un broker che lavora con vigilanza a Banca Centrale di Irlanda quindi l'euro dalla mezzanotte GMT è la valuta più forte contro tutte quindi un suggerimento che vi dico nell'usare questo script magari non concentratevi magari solo sull'euro dollar come avete visto magari se aveste comprato l'euro contro lo svizzero nella giornata di oggi avrete guadagnato molto di più rispetto con l'euro dollar quindi questo è uno script per capire dove sono come dice Giovanni gli istituzionali qui lo capiamo su base giornaliera assieme a questo script ci sarà anche una guida quindi proprio perché non è fine a se stesso una guida che vi spiega al di là di come installarlo ma anche di come interpretarlo quindi ci tenevo a darlo agli utenti di Giovanni ok poi altre cosine molto interessanti che magari molto spesso non vi ho fatto vedere però ci tengo a farvi vedere delle cose che stiamo lanciando in Avatrade delle cose che dal mio punto di vista semplificano parecchio l'operatività del trader allora innanzitutto qui siamo sull'home page di Avatrade c'è un quando vi collegate c'è scritto sei protetto rimborso sulle posizioni in perdita non è una cosa di marketing ma è una cosa molto operativa vi invito chiaramente a guardare vabbè c'è un video molto proporzionale dove fa vedere diciamo la squadra di cui siamo però il concetto è molto come dire operativo cosa vuol dire sei protetto ti rimborsiamo sulle posizioni in perdita praticamente Avatrade tramite un'apertura di un conto con Avatrade poi vi facciamo vedere anche diciamo gli incentivi di aprirlo tramite questo webinar voi avrete a disposizione chiaramente una mail con cui aprite il conto e una password con questa mail e con questa password potete accedere a diverse piattaforme di Avatrade abbiamo la MetaTrader 4 che è chiaramente quella di riferimento per tutti gli strumenti che mette a disposizione Giovanni MetaTrader 5 però con le stesse credenziali della MetaTrader 4 potete entrare nella nostra WebTrader e nella piattaforma Avatrade Go che è la piattaforma per il mobile la piattaforma Avatrade Go e la piattaforma WebTrader vi danno la possibilità di fruire di questa funzione che si chiama Avra Protect ve la faccio molto semplice in questo momento non ho una piattaforma per farvi un'operazione ma poi chiaramente vedete tutto dal filmino ipotizziamo che voi pensiate di comprare l'euro dollaro in un momento come questo quindi un prezzo intorno a 1.17 7.50 andate lunghi ok per la taglia che volete quindi se il mercato vi va a favore chiaramente guadagniamo tutti se ipoteticamente dite però io la mia view di euro dollaro è rialzista per il periodo come dicono anche gli indicatori di cui abbiamo discusso però se il mercato ipoteticamente mi fa un ritracciamento io vorrei essere protetto da questa perdita quindi pagando essenzialmente un premio perché Avatrade la cosa intelligente che ha fatto è di inserire all'interno della piattaforma il classico meccanismo delle opzioni quindi io pago un premio per una durata di tempo che mi cancella la perdita quindi faccio un esempio concreto se compro un lotto su questi prezzi e voglio proteggere la mia operazione per un tempo di due giorni più o meno con un premio di 150 euro io mi cancello tutte le perdite quindi cosa vuol dire se il mercato all'interno di questi due giorni alla scadenza del secondo giorno quindi il tempo per cui ho pagato di proteggermi da un eventuale ritracciamento dovesse essere colpito diciamo sono in perdita dopo questi due giorni il mio premio mi annulla la perdita sia che sia di 1000 euro 2000 o quello che è quindi è un modo come dire un'operatività tra classico Forex CFD ed opzioni questi sono strumenti che chiaramente sta introducendo solo Avatrade e servono come dire per vedere il trading in maniera anche meno speculativa perché se la mia view in questo caso è rialzista vado all'interno del periodo di temporale che posso scegliere direttamente la maschera degli ordini mi vado a proteggere chiaramente pagando un premio al broker che mi tutela un altro molto come dire innovativi che vedo all'interno delle piattaforme di Avatrade e vi invito chiaramente a provarle anche in versione demo ovviamente abbiamo una piattaforma totalmente web non so se siete se si vede in questo momento si vede si vede io la vedo perfetto all'interno di questa piattaforma web che si può accedere con le stesse credenziali della piattaforma Metatrader 4 avete diciamo quello che è il sentiment non di Giovanni e dei suoi indicatori ma quello dei nostri come dire investitori avete quindi i titoli in maggiore i titoli in maggior crescita e ribasso chiaramente sono dati dalle variazioni percentuali ma avete i titoli magari più scambiati i titoli più acquistati dai clienti di Avatrade considerate che i volumi di Avatrade sono molto importanti parliamo di almeno 5 miliardi di dollari scambiati ogni mese quindi avete un avvio sul mercato di quella che è il trader in questo caso di Avatrade purtroppo come dicevo all'inizio in questa fase non coincide tanto con quella degli indicatori però chiaramente sono strumenti che avete integrati direttamente all'interno della piattaforma quindi nulla vi vieta di lavorare magari con sullo stesso conto anche con più piattaforme ovviamente senza far confusione ma per andare soprattutto a fruire di tutte queste indicazioni che può mettervi a disposizione un broker globale proprio perché chiaramente della clientela di Avatrade e i numeri di Avatrade io come trader italiano posso chiaramente confrontarmi anche con i numeri di Avatrade in Cina che sta andando in questo momento soprattutto viene da dire nella fase di lockdown come sapete i volumi sono aumentati parecchio anche in causa della volatilità e in Cina ci sono stati proprio dei movimenti incredibili parlo a livello di trading online quindi tendenzialmente adesso ci terrei Giovanni magari a far vedere un attimino al di là delle piattaforme farvi capire come poter avere le piattaforme di Avatrade e avere anche diciamo alcuni strumentini che vi ho fatto vedere vai vai allunghiamo di 10 minuti il webinar per me alcun problema ci mancherebbe altro se non vi annoio ovviamente ci mancherebbe no sono informazioni alcune manco le sapevo io figurati no ci mancherebbe servirebbero oltre dei webinar spero anche un domani delle giornate dal vivo proprio per seguirvi parlarvi innanzitutto cosa fa un broker perché chiaramente conosco molto bene Avatrade perché ci lavoro da 10 anni poi faccio sto lavoro da 20 quindi un'idea ce l'ho più o meno quello che dobbiamo fare di quello che facciamo e basta quindi quello che volevamo mettervi a disposizione quindi sicuramente per chi mi manda una mail e poi vi faccio vedere qual è la mia mail volevo mettervi a disposizione la classifica della forza relativa quello che vi ho fatto vedere la classifica della forza assoluta e chiaramente la guida all'utilizzo che è molto importante poi d'accordo con Giovanni avevamo creato degli strumenti per il rischio e il money management cosa sono? sono strumenti che a livello di iniziativa equiparerei alle idee che ha avuto Giovanni nel senso perché fermarci sempre i soliti tipi di ordini che sono presenti nella Metatrader 4 quindi abbiamo creato degli strumenti che fanno degli ordini di tipo temporale degli ordini legati al vostro profilo di rischio espresso in leva quindi ci sono diversi strumentini che chiaramente adesso non ho il tempo però vi ripeto vi faccio vedere subito la mia mail in questo modo se avete bisogno degli strumenti che vi ho fatto vedere prima sulla forza relativa mi mandate una mail ad.ponzinibiavatrade.com se avete bisogno invece di chiaramente di un buon broker mi sento di dire per poter lavorare chiaramente noi abbiamo una convenzione dedicata per i contatti con Giovanni proprio che Giovanni poi chiaramente la spiegherà meglio di me spiegando quali sono le soglie di accesso per lavorare con noi quali sono le cose che vengono come dire date in partnership con Avatrade vedo se avete delle domande anche ci sono aspetta un attimino Giovanni che le recupero non le vedo al momento ma al momento no perfetto se ci sono completerei io il tuo ragionamento va bene va benissimo se sei d'accordo faccio vedere adesso prendo lo schermo Daniele un secondo un secondo se lo trovo il comando che l'ho perso allora eccoci qua prendo un attimo lo schermo per concludere il nostro incontro ma poi vi faccio vedere anche un grafico con un con la evidenza di come si possono avere in promozione i miei software fra cui quello di oggi la pedale sentiment in promozione con Avatrade aprendo un conto con Avatrade avete con un deposito minimo di 5.000 euro gratuito per un anno il buy sell lo stay e l'indicatore up and down il buy sell pressione di acquisto in vendita lo stay tendenza up and down divergenza resistenza e supporto e tanta roba con il sentiment ci sono degli scaglioni deposito minimo 1.000 euro 3.000 euro 5.000 10.000 euro per il deposito minimo si intende con l'iniziale cioè se avrete un conto con 100 euro e poi ce ne mettete 2.000 dopo una settimana non funziona così con sconti progressivi a seconda dell'importo depositato che vi abbassano riducendo da 10.000 in avanti praticamente a 0 per un anno il costo del sentiment che già dal prezzo di 534 va a 457 e su questi 457 si applica da 100 a 200 a 300 a 400 euro scontati chiaramente questi sconti possono andare anche per gli altri software qui c'è un esempio qui c'è la tabella e le descrizioni che vi ha dato Daniele scrivete direttamente o a Daniele Ponzinibbi o a Simone Spinelli o al sottoscritto per avere maggiori delucidazioni su questo tipo di ragionamento vi lascio con questo grafico che sto osservando su un time frame a 15 minuti ancora molto molto frattale e quindi potrebbe essere una delle tante operazioni sbagliate che si fanno ma ho preso ispirazione da quello che sto vedendo sull'America con il raggiungimento del 2326 25 di SP500 di cui parlavo oggi forse adesso torno sul grafico può essere new share grafico eccoci qua può essere la giornata di un po' di ritrovata serenità da parte del Nasdaq il Nasdaq sta aprendo con molta più forza degli altri omologhi indici americani ed europei ha tirato questa candela che a mio parere su 15 minuti è molto interessante interessante anche sia pure su un grafico bruttino da vedersi se posso dire come la vedo questo recupero su cui da oggi c'è qualche tendenza più forte c'è a mio parere anche questo da mettere in relazione poi con il cambio del dollaro perché Nasdaq sta tirando DAX su cui è un'operazione longa 12.850 lo dico subito e che quindi in questo momento 12.629 630 qualcosa mi sta portando sotto Nasdaq sta tirando bene lo sguardo sull'America anche in questo caso mi sembrerebbe di poter dire che l'America sia pure in un modo che non è proprio tutta sta gran fighezza ha voglia un po' di recupero credo però che ci sia da fare dei distinguo sui titoli probabilmente qui il rally è un po' più sul tecnologico un po' meno sull'industriale e sull'SP500 c'è qualche cosa già il fatto di essere arrivati su questa media ci dice delle cose interessanti in termini di andamento di prezzo questo 38.2 su cui passa la media mobile a 200.3 sul 15 minuti in apertura di Wall Street un po' si fa sentire nel frattempo DAX sta ritornando più o meno sul mio prezzo di carico di 12.850 DAX scusatemi e io ho fatto questa operazione con lo 0.10 quindi come dire un euro a punto perché ho visto sul 15 minuti che non è un time frame velocissimo per operare in Open di Wall Street questo tipo di situazione tenderò però ad avere stop non esageratamente larghi e profit non esageratamente abbondanti perché comunque è un'operazione fatta guardando che c'è un po' di perdita di spinta da parte della mano che ha alimentato il ribasso e c'è un pochettino di voglia di tornare su da parte della mano primaria poca devo essere sincero ho visto e abbiamo visto molto di meglio osserviamo questa stessa configurazione anche su un grafico a 5 minuti perché è ovvio che cambiando time frame cambia il film su 5 minuti la situazione è ancora più brutta da vedere utilizziamo questa operatività non per far vedere quanto siamo fighi ma semplicemente per fare della buona didattica e anche sul minuto addirittura i big tutta questa gran voglia di passare questa resistenza non ce l'hanno personalmente resto sufficientemente confident senza aver caricato molto il conto peraltro la size e questo livello se il Nasdaq non fa il matto e mi supera un 630 da cui è stato inizialmente respinto possa essere raggiungibile a livello grafico non è che si vedono delle cose molto belle sul 30 minuti c'è un rimbalzo da ipervenduto niente de più niente de meno sull'H1 concludiamo quindi un rapidissimo esame degli indicatori c'è una fase di congestione a mio parere la tendenza di brevissimo resta un po' ribassista perché c'è stata questa rottura a 12.980 molto chiara molto molto chiara rotto pullback rottura di nuovo di un livello estremamente importante un rimbalzo oggi ci potrebbe stare siamo tornati di nuovo sul prezzo di carico ma un rimbalzo secondo me che se arriviamo a 12.900 così dice anche la dashboard 880 912 950 io direi che se DAX oggi fa un 930 c'è da accendere un cero alla madonna per noi piccoli frati lapidarini che abbiamo una visione rialzista perché di più non è da fare va apposta grande attenzione alla gestione dei minimi sul derivato tedesco perché vi è comunque una zona che è stata testata ma che il mercato ha sentito che ha respinto in una giornata senza grandi dati macro ma su cui non prenderei parecchia 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 confidenza sinceramente poi da qui a stasera vedremo se questa operazione Cina in diretta ha avuto un andamento positivo se l'ha avuto negativo se l'ha avuto positivo non qualifica il relatore come il trader più bello del mondo se l'ha avuto negativo la stessa identica cosa l'importante è che questo webinar vi abbia dato degli strumenti di riflessione e vi abbia fatto comprendere che ci sono tool e aggeggi da quelli di Daniele sulla forza relativa che oggi mi ha aperto un po' dei rumi e da questi che possono sinceramente dare tanto all'operatività di un buon trader non sono strumenti questi per un trader che comincia ieri ma sono strumenti che per qualcuno che ha già un minimo di esperienza e che ha bisogno di un supporto di grande valore aggiunto li ritengo insostituibili strumenti quindi non adatti a tutti ma adatti a chi ha voglia di fare un trading serio e lo sa magari già fare e ha bisogno di trovare una marcia in più se ci sono domande lascio un minuto per ricapitolare le idee a vostra disposizione altrimenti sia per voi che per i colleghi che stanno vedendo questo nostro appuntamento su youtube metto la mia mail che è infochioccioallapidari.it alla quale le persone che mi conoscono e anche quelle che già magari usano indicatori e quelle che invece mi conoscono meno possono fare riferimento per tutto quello che possiamo trasmettere nel frattempo Nasdaq sta tornando indietro DAX non si è capito cosa vuole fare da grande faccio vedere una cosa molto stupida molto semplice come si chiude un'operazione si usa il tasto chiudi tutto della dashboard abbiamo premuto il tasto chiudi tutto e questo trade con la bellezza di 4 punti e mezzo di guadagno tanta roba è finito l'ho chiuso perché non mi piace il Nasdaq che sta tornando sotto 10.600 perché vedo sul 5 minuti una piccola shooting star vedo segnali cautela da parte della dashboard credo che sia un momento nel quale non c'è ancora una condizione poi sarò smentito sicuramente fra un minuto e mezzo alla fine di questo webinar per aspettarmi granché in una giornata secondo me che è stata anche abbastanza stupidina e poco come vedete anche dall'andamento di queste strutture grafiche poco interessante il mercato che è stornato ha un po' paura di questo storno non trova una quadra aspetta le trimestrali e probabilmente qualche news in più per procedere il trader e con questo finisco deve essere sempre 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 molto scaltro veloce se un'operazione gli piace bene se un'operazione non gli piace si deve dare un tempo il mio tempo è 15 minuti circa il che significa che un'operazione non va bene entro 15 minuti va chiusa ma le prime avvisaglie ce l'ho dopo 5 dopo 10 minuti rispettivamente un terzo e due terzi dell'operazione a volte si sbaglia a volte si perdono delle occasioni ma il trading non è perdere le occasioni ma è portare a casa la pelle con questa filosofia molto spicciola della strada vedo che altre domande non ci sono e quindi vi saluto a tutti e mettiamo mettere su youtube la come si può dire scusate la registrazione praticamente già c'è verrà mandato il link a tutti i colleghi sono nelle mie mailing list che non hanno avuto modo di partecipare a questo webinar un saluto a tutti e buona serata grazie a tutti